Si terrà domani alle 21 al Teatro Comunale Eschilo di Gela lo spettacolo Opera Panica di Alejandro Giorodowski. La rappresentazione teatrale sarà portata in scena dalla compagnia Dove Come Quando per la regia di Pietro D'Attola. Questo spettacolo ha una struttura frammentaria accompagnata da un linguaggio semplice e diretto. In pratica è un collage di scene che hanno l'obiettivo di dimostrare allo spettatore cosa fa lo spettatore nella vita al fine di poter cambiare. Perché normalmente si ritiene che l'uomo vada verso la felicità. In realtà il modo che ha l'uomo per fare questa cosa lo porta a essere infelice. Di conseguenza Alejandro Giorodowski, l'autore, ci mette davanti uno specchio e ci dice guardate se vi comportate così come fate normalmente sicuramente andrete incontro all'infelicità. Fate qualcos'altro. Noi ci mettiamo dalla parte dello spettatore comune e mostriamo la vita come si svolge normalmente. In modo ovviamente parossistico, in modo esagerato, in modo che sia riconoscibile. Il cast è composto da Letizia Barone Ricciardelli, Flavia Germania De Lipsis, Andrea Onori e Marcello Paesano. L'opera si compone di un insieme di scene che orbitano nella sfera dell'assurdo. Il mio clown infatti è una persona pura, anzi troppo pura, talmente pura che viene messa da parte, viene messa in difficoltà e lo fa vedere al pubblico. E il pubblico si immedesima, ritrova molto facilmente se stesso in quella situazione, perché chiunque ha attraversato le situazioni in cui si trova il clown, solo che il clown è talmente strano e talmente diverso che è la prima vittima del sistema. Per cui è lì, è lì. Ed è lì tanta umanità, insomma. Per cui mi fa una continua tenerezza, una grande commozione e una grande poeticità, secondo me. Grazie.